Un cielo colorato a ritmo di musica sopra gli occhi sognanti di centinaia e centinaia di spettatori, piccoli e grandi, che si lasciano incantare dalla magia dei maestri pirotecnici italiani. Tra fuoco, colore e musica, è tornata la sfida sensazionale Caput Lucis, ospitata nel parco giochi di Valmontone Rainbow Magicland. La prima serata c'è stata venerdì, ma l'evento che vede sfidarsi le migliori aziende pirotecniche del panorama nazionale andrà in scena fino a lunedì, serata in cui verrà premiato il miglior spettacolo della rassegna. Abbiamo iniziato questa sera con l'edizione Caput Lucis 2015, replichiamo questa location d'eccezione Rainbow Magicland di Roma-Valmontone. Oggi abbiamo avuto in gara il campione in carica del 2014 Raffaele Fireworks per il Lazio e il fratello Iva Calluzzo della regione Sicilia. Tante le novità di quest'anno. L'apertura dell'evento è ad opera di una band famosissima qui nella capitale che è Frankie e Cantina Band, che quindi aprirà le serate di ogni sera di Caput Lucis con musica live, a seguire le esibizioni delle pirotecniche che sono poi le vere protagoniste dell'evento, e per finire il DJ set di Dimensione Suono Roma. Abbiamo otto aziende, quindi due per ogni serata, che rappresenteranno un po' tutta Italia, abbiamo la Puglia, abbiamo l'Emilia Romagna, abbiamo il Veneto, abbiamo la Sicilia. Per l'occasione sono stati pensati dei pacchetti appositamente per le famiglie. Abbiamo previsto una prevendita a 15 euro per l'ingresso al parco dalle ore 16, 15 euro per gli adulti e 4 euro per i bambini fino a 10 anni. Questo per offrire un'offerta appunto di intrattenimento completa che riguarda sia le attrazioni del Rainbow e poi il nostro format. A presentare la competizione tra i maestri pirotecnici italiani per tutte e quattro le serate, uno scoppiettante Teo Mammucari. Pensavo fosse una cosa da bambino, invece anche da grande mi emoziono, però quando mi hanno detto la vuoi presentare ho detto magari, sarei venuto anche se non fossi io il presentatore, capito? Ci farai divertire sicuramente per tutte e quattro le giornate, la tua energia si mischierà un po' a quella dei fuochi d'artificio. A me mi hanno detto guarda devi dire buonasera, presenti le squadre, esci. Non ho preparato nulla, io sono qua per presentare una vera e propria gara. Io saluto Teleuniverso, mamma mia, che grande cosa.